Sai qual è l'errore più grande che può fare un dj? Te lo dico dopo la sigla, nel frattempo iscriviti al canale e clicca sulla campanellina. L'errore più grande che può fare un dj è, rullo di tamburi, non andare mai a ballare. Ecco che ho toccato un argomento controverso perché non sono tantissimi a pensarla come me, ci sono tanti che invece dicono, ah no, ma io fò la mia serata, io studio, prendo la mia musica, però non vado mai a sentire gli altri perché sennò sono influenzato. Beh, mi dispiace, è una grandissima cazzata. L'ho detto, l'ho detto, l'ho detto io, quindi puoi contestarlo come puoi, ma ti dimostrerò perché non andare mai a ballare è l'errore più grande che tu possa fare. Mi dirai, ma io lavoro tre sere a settimana, le altre sere mi voglio anche riposare. Sì, ok, però prenditi comunque le tue sere di tanto in tanto per andare a giro. Vai a sentire i colleghi, vai a sentire quello che mettano, come e perché e quando anche. Vai a vedere chi frequenta le serate degli altri, perché magari sei abituato alle tue e sei lì con i paraocchi, convinto di fare un bel lavoro e magari lo fai, però vedere altri modi di leggere la serata nel tuo contesto può essere comunque utile, oltre che saldare un po' dei rapporti, cioè l'andare a ballare ha alcuni grandi vantaggi. Quindi, innanzitutto, ne va della tua apertura mentale, invece di essere soltanto te nel tuo mondo e confrontarti con la musica, con tutta la musica che esce, vedi altri modi di confrontarsi con magari la stessa musica, se si tratta di lo stesso genere, oppure frequenti serate di genere completamente diverso e vedi perché, come funzionano e perché. Poi, sono comunque situazioni di networking che per il nostro lavoro è fondamentale, quando vai nelle fiere e nei festival trovi sempre i grandi DJ che si salutano e vanno a sentire i colleghi anche tra una serata e l'altra. Un esempio su tutti, Martin Garrix a Miami lo trovi dappertutto, veramente dappertutto, eppure è anche uno super impegnato, super richiesto eccetera, però arriva il momento in cui ti giri, c'è Martin Garrix che passa con magari un po' di gente intorno e basta salutare Afrojack o chiunque altro, cioè per lui è veramente un impegno massiccio e massivo perché è ovunque ed è giusto che sia così. Lui, come anche quelli di altri generi, come chi suona tecno, lo trovi che si girano tutti i party, tutti gli after eccetera, quindi se lo fanno i numeri uno non vedo perché non tu debba farlo te. Magari è solo per farsi vedere o solo per andare a salutare o farsi le foto, ma è comunque importante esserci. Per l'aspetto musicale invece, cioè magari ci sono dei brani che te non suoni più da tempo, che ancora funzionano o che magari ci stanno bene nella scaletta di qualcun altro e potrebbero star bene anche nella tua, semplicemente non ci pensi, semplicemente hai riorganizzato la tua musica e hai dimenticato delle cose o hai tralasciato delle cose che hai suonato per tantissimo tempo e potrebbero avere ancora la sua valenza, oppure potresti ripescare delle cose più vecchie che funzionano ancora o che potrebbero avere il suo perché e questo lo scopri o lo riscopri andando a sentire gli altri, andando a sentire le scelte degli altri e soprattutto andare a ballare ti fa vedere la reazione delle persone. Sì ok, bello vedere i festival e i set in streaming, ma quando sei lì percepisci tutta una serie di cose che in video non traspaiono, percepisci l'emozione delle persone, percepisci le persone quando se ne vanno o quando vanno a bere o quando si lamentano, magari te da video vedi una folla piena, gli spazi pieni, anche perché magari il video è montato un po' a regola d'arte, ma quando sei lì lo vedi se ci sono i buchi in pista o se c'è veramente la voglia di divertirsi, sia nei grandi nomi, sia nei contesti più piccoli. Esserci, fare le file, passare tra la gente è fondamentale per un DJ, perché non tutti vengono a dirti tutto, le persone sia con cui hai confidenza che meno, però lo vedi come si comportano e lo vedi solo se ci sei. E poi può essere utile se ti confronti con altri contesti in cui magari non conosci, per esempio quando andai a Chicago scoprì in che modo Skrillex aveva rivoluzionato e stava rivoluzionando la musica, perché ovunque c'erano influenze dubstep, che a me sinceramente mi facevano anche un po' lamentare di questa cosa, però poi tornato a casa capisci che c'è una rivoluzione in atto, c'è qualcosa che sta cambiando e che stando sempre nel proprio paese non percepisci. E allora andare a ballare in tutte le parti del mondo, e posso dire veramente che adesso è stato a ballare in tutte le parti del mondo, ti fa capire tante cose, ti fa capire come confrontarti con dei pubblici che arrivano magari da altre parti del mondo, perché sei stato in dei periodi a vedere cosa succede da loro e poi provare a ricreare quelle stesse condizioni ed emozioni. Ti dà altri spunti, altre tipologie, altre categorie di musica, ti fa ampliare lo spettro delle scelte possibili. È veramente fondamentale andare a ballare ovunque ed ogni volta che ti capita l'occasione, anche solo per divertirsi, cioè il nostro lavoro è un lavoro di emozioni, bisogna anche divertirsi. Se non ti diverti ad andare a sentire gli altri, vuol dire che hai sbagliato il mestiere. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi.